Altra ripartenza rapidissima della Lazio, Genduzi per Castellanos! 1-2 con Mario Rui, cross in mezzo, secondo Paolo Spuca, Zambon fissa! Se ne va Piccoli, arriva sul fondo, cross arretrato e poi la conclusione di Uden! Berardi vede anche la porta da lì, Berardi vuole calciare, Berardi si accentra e calcia! Ha toccato Mignon! Controlla, Simis terza, contro Ciaccio alla piazza Simis! Scusate, su Castellanos, qui il piazzato di Simi con Montipò che la tocca!